Nei prossimi tre anni alla fincantieri serviranno 6.000 lavoratori che non si trovano. L'allarme lanciato dall'amministratore delegato Giuseppe Bono sui giovani che pur di non entrare in cantiere allo stipendio medio di 1.600 euro del carpentiere o del saldatore preferiscono perfino i 500 del rider non ha dovuto fare molta strada per rimbombare tra i muri della CGL veneziana dalla cui sede si vedono bene le gru del colosso mondiale delle costruzioni navali e dove l'uscita è stata accolta con più di una perplessità. Secretario alle sue spalle ci sono 6.000 posti di lavoro che aspettano solamente qualcuno? A dire il vero non è proprio così. Purtroppo noi abbiamo una situazione in cui i giovani vedono un mondo del lavoro precario, un mondo del lavoro in cui spesso i diritti non vengono garantiti e quindi una situazione molto più complessa di quella che viene descritta. Penso a quei 4.000 passi lavoratori che ci sono alle mie spalle che lavorano nelle aziende degli appalti, che non hanno una mensa, non hanno diritto ad avere uno spogliatoio, che vengono pagati con paga globale oppure con contratti pirata. Insomma quei 1.600 euro di cui parla l'ingegner Bono se li sognerebbero la notte questi lavoratori. Quindi questi 6.000 posti ci sono o non ci sono? Ma se io sto al dato di crescita della Fingantieri e quello che hanno prospettato potrebbero anche esserci, uso il condizionale. Il problema è capire dove, sicuramente non all'interno dei lavoratori diretti della Fingantieri, ma sicuramente negli appalti. Abbiamo lavoro per 10 anni e cresciamo a un ritmo del 10%, ha detto Bono, esortando i genitori a spronare i figli. Ma dare ancora una volta la colpa ai giovani, fannulloni o bamboccioni, a seconda delle definizioni che si sono susseguita negli ultimi anni, alla CGL appare troppo semplicistico. Accanto a Padoa Schioppa, Fornero, adesso Bono, che parla dei giovani che non hanno voglia di lavorare, poi invece vediamo centinaia di migliaia di lavoratori italiani che vanno all'estero e non sempre per fare lavori altamente qualificati, ma tante volte semplicemente per trovare un lavoro che non sia precario e che non sia sfruttato.